Buonasera a tutti, sono i barista di Paugiano, vi vogliamo invitare il 6, 7 e l'8, osso, a vedere i bari della diretta sul canale 89 di DTV, DTV, cosso, in diretta da Montiattini Terme, osso, le Special Olympics Italia, Italia Special Olympics, cosso, in diretta da Telemontiattini, come le bari della diretta, Alessandro Martini, Omar Monti, Luca Gianzo, Gli Rubellini, sono io, barista di Paugiano, dove sei da pure, osso, in diretta sia, in diretta sia su Facebook, e sulle pagine i bari della diretta è Toscana Marino Mariano House, le Olimpiadi Speciali Italia, osso.